Un saluto a tutti. Buongiorno a tutti da redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovraimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiocciodarossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, video, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure semplici messaggi di testo. Ma iniziamo subito con la prima notizia di questo nuovo magazine e riguarda Vallefoglia, perché da mercoledì 20 a venerdì 22 ottobre ha fatto tappa a Montecchio il camper vaccinale. Un'iniziativa che è stata organizzata dall'Asur in collaborazione con la CNA di Pes Rubino e Master Quality, indirizzata a tutti quei lavoratori e cittadini che per scelta o per altri motivi non si erano ancora sottoposti alla vaccinazione. Vediamo. Sindaco Cucchielli, nuovo camper vaccinale che sarà qui nel punto Tamoil dal 20 al 22 ottobre, un motivo in più per sollecitare i lavoratori a vaccinarsi. Intanto vanno due ringraziamenti. Uno alla CNA per aver scelto questo luogo, abbiamo messo a disposizione i locali del comune che sono qui alle mie spalle, per aver scelto un luogo centrale degli operai e delle imprese. Questo è il cuore di un'area industriale di circa 50.000 abitanti. Il secondo ringraziamento va all'Asur, al direttore dell'area vasta Magnoni, a Elisabetta Esposto, perché sono veramente straordinari. E tutti gli operatori, anche quelli che fanno materialmente i vaccini, solo il vaccino si salva. Io penso che si convinceranno oramai anche gli ultimi resistenti, perché noi abbiamo diverse classi, soprattutto nelle colline, dove sono più forti quelli che non hanno fatto il vaccino, che sono chiuse, sono a casa. Quindi si fanno dei danni incalcolabili. Se vogliamo ritornare all'economia piena, a competere sullo scenario internazionale e mondiale, ad avere la piena occupazione, finché non abbiamo sconfitto il vaccino, il Covid, bisogna fare il vaccino. Quindi credo che non ci siano altre soluzioni. Noi come CNA di Pesaro Urbino, attraverso la nostra società Master Quality, che è la società che segue la sicurezza e la salute nei posti di lavoro, siamo sempre stati in prima linea, fin dall'inizio, fino all'attuazione dei protocolli, all'inizio della pandemia e oggi con la vaccinazione. Noi crediamo fortemente nella vaccinazione e pensiamo che sia l'unico strumento per uscire da questa crisi, sia sanitaria che economica. Siamo sempre a fianco delle nostre imprese, siamo a fianco dei lavoratori e dei nostri imprenditori. E pensiamo che la tutela della salute pubblica deva prevalere sull'interesse dell'individuo a non vaccinarsi, perché la non vaccinazione poi mette a repentaglio, mette a rischio la salute pubblica e anche il lavoro e tutto il sociale. Per ritornare alla normalità, il nostro slogan è quello di fare il vaccino e di mettere a disposizione a tutti anche la possibilità di vaccinarsi senza né prenotazioni e senza tanti adempimenti burocratici. Quindi abbiamo sposato in pieno la campagna vaccinale con camper itinerante sul territorio, soprattutto nell'entroterra e soprattutto in quei posti dove magari rimane più lontano i centri vaccinali. Con il camper si ha la possibilità, anche per, soprattutto per chi rimane lontano da questi vaccini, di fare il vaccino a pochi chilometri o a poche centinaia di metri da casa. E negli ultimi giorni si è parlato tanto di una simulazione effettuata dalla consigliera della Regione Marche, Michela Vitri, per quanto riguarda il contributo della Regione Marche per il prossimo anno per le comune di Vallefoglia. Dalla ricerca effettuata è risultato cambiato il criterio per la somma che verrà assegnata, privilegiando di fatto i piccoli comuni e penalizzando coloro che hanno fatto le fusioni, come ad esempio appunto le comune di Vallefoglia. Sentiamo ciò che ha rilasciato ai nostri microfoni detto la consigliera Vitri. Consigliera regionale Vitri, Vallefoglia e i comuni coinvolti dalle fusioni sono stati penalizzati dai fondi regionali. Ci può spiegare il problema? Tutti i comuni della provincia di Pesaro-Urbino che si sono uniti risultano penalizzati rispetto agli altri comuni aggregati del resto della Regione, soprattutto della provincia di Macerata. Cosa è successo? Il 4 di ottobre il Presidente Acquaroli ha firmato in gran segreto, perché non lo ha comunicato, una delibera di giunta in cui rivede i criteri di assegnazione di contributi ai comuni che si sono fusi. Ora avranno di più i comuni che sono in numero maggiore, quindi più enti che si sono uniti rispetto al numero di abitanti. Ciò significa che se si uniscono tre comuni, quattro comuni e hanno anche solo cinque abitanti, potranno avere un contributo più alto rispetto a due comuni uniti che hanno 20.000 abitanti. Mi sono accorta facendo delle verifiche di questa delibera. Ho notato che erano cambiati tutti i criteri, per cui ho fatto una simulazione cercando di capire cosa cambierà nelle Marche. Noi abbiamo otto nuovi comuni nati da fusioni e questi otto comuni prima avevano un contributo su un fondo di 250.000 euro in totale che era suddiviso per il 40% in base al numero dei residenti, 40% in base al numero dell'estensione territoriale e 20% in base al numero di comuni che si erano aggregati. Di solito sono due, a volte sono tre, quattro. Cosa cambia? Ora invece il 40% viene dato in base al numero di comuni che si aggregano. Quindi più sono i comuni che si aggregano e più è il contributo. Ma contano molto meno il numero di abitanti e residenti. Si crea una disparità allucinante anche perché viene messo un limite, cioè devono avere almeno il 5% di questo fondo e che succede? Che nella provincia di Macerati i microcomuni ottengono di più di tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino. Consideriamo che in tutta Italia, in tutte le regioni, le fusioni vengono favorite e tra un po' saranno anche indotte in modo quasi obbligato dall'Unione Europea perché permettono di risparmiare risorse alla macchina burocratica e quindi Regione e Stato cercano di premiare chi segue dei processi di fusione. Vallefoglia, ad esempio, nel 2019 aveva avuto 136 mila euro. Pensiamo a quanti servizi ha offerto ai cittadini tra scuole, asili, manutenzione con 136 mila euro rispetto a quelli che potrà dare quest'anno con 30 mila euro. E ora, come di consueto, diamo spazio alle vostre segnalazioni. Se ne sono arrivate numerose, così come numerose sono anche le segnalazioni che avvengono tramite i social network, dei canali, comunque dei gruppi relativi a Vallefoglia, ma non solo. Questa volta protagonista di numerose critiche è la rotatoria recentemente costruita lungo la strada che collega Apsella a Montelabate. La rotonda pare non abbia trovato approvazione da chi percorre quotidianamente quel tratto stradale. La maggiore pericolosità la si ha spostandosi da Apsella verso Montelabate in quanto la rotatoria, rimanendo nascosta dietro a una cuve risultando non visibile a chi vi sopraggiunge, induce i conducenti dei veicoli a proseguire dritto imboccando la contromano. Una situazione che preoccupa tanto chi transita in quella zona, soprattutto di notte, visto che il mancato sistema di illuminazione la rende ulteriormente pericolosa. E dalle problemi legate alla rotatoria passiamo a quello dei rifiuti, perché anche in questa settimana sono state diverse le segnalazioni dei cittadini di Bottega e di Vallefoglia che hanno denunciato lo stato in cui versano alcune isole ecologiche della zona. Come potete notare, le immagini mostrano chiaramente la grossa inciviltà da parte di alcuni abitanti nelle gettare decine e decine di rifiuti fuori dagli appositi bidoni, dove cestini di plastica, numerosi pezzi di cartone e uno specchio sono solamente una parte della sporcizia che ingombra la piazzola. Il senso di civiltà è probabilmente un concetto estraneo a chi ha questo tipo di comportamenti e noi come Rossini TV ribadiamo i nostri impegni nel cercare di sensibilizzare il più possibile gli abitanti, in questo caso di Vallefoglia, per un obiettivo comune e un mondo più pulito. E restiamo sempre a Vallefoglia perché nelle settimane il sindaco Palmirucchielli ha inoltrato al Ministero della Difesa e al Ministero degli Interni una richiesta per la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri a Montecchio. Ascoltiamo. Al Ministro della Difesa Guerrini, al Ministro degli Interni della Morgese abbiamo scritto una lettera dicendo che bisogna fare una nuova caserma dei carabinieri a Montecchio di Vallefoglia che diciamo ha un rapporto con tutti i comuni confinanti Montalabate, Tavuglia, Petriano, Montecallo, tutti questi Borgo Santa Maria che è proprio qui a fianco a questo territorio. Quindi ci vuole un rafforzamento, un potenziamento anche perché sono diciamo uomini e donne nell'arma che hanno necessità di altri spazi. abbiamo inviato anche un progetto per la verità un progetto di una nuova caserma dei carabinieri perché i carabinieri a Montecchio perché i carabinieri l'arma è la punta di diamante delle nostre forze armate anche nelle missioni internazionali la gente ha molta fiducia e quindi per noi è importante avere un controllo una prevenzione rispetto ad infiltrazioni malavitose di un'area molto ricca molto produttiva qui alla mia spalla c'è un'azienda leader una delle aziende leader nel mondo che è Vitri Riva Cold che ha mille dipendenti bene tutte queste aziende che vanno a gonfie vele per fortuna e che espandono le loro attività vorremmo che non finissero nelle mani della malavita organizzata quindi è meglio prevenire che curare i mali e avere una presenza di una compagnia dei carabinieri di una nuova caserma dei carabinieri in un territorio strategico e ci sono persone che vengono dalle zone del sud d'Italia dalla Sicilia dalla Calabria dalla Campania ma anche da tanti paesi europei e anche fuori dall'Europa quindi vorremmo che non ci fossero persone che non rispettano le regole e non c'è posto nemmeno per i bulletti che creano problemi alla nostra attività alla sera e anche a tarda notte tanto meno per chi spaccia droga fa attività malavitosa e criminale la caserma dei carabinieri è diciamo una garanzia per tutte queste ragioni che ho detto e che abbiamo messo per iscritto e combatteremo per avere questo risultato e ora un piccolo sguardo alle iniziative previste nel territorio perché sabato 23 ottobre dalle 15 si svolgerà a Tavuglia Vallefoglia e Pesaro una giornata interamente dedicata a laboratori per i bambini tanti gli appuntamenti in programma come attività di cucina sport teatro musica creatività e tanto altro per iscriversi e partecipare ai laboratori che si preferiscono sarà necessario contattare gli organizzatori ed essere muniti di Green Pass e torniamo a parlare delle biodigestore un tema che ormai da un anno è sotto la lente di ingrandimento dei cittadini di Vallefoglia ma non solo in questa settimana infatti l'associazione diversamente ha depositato in provincia 70 pagine di osservazioni contrarie alla realizzazione di questo tipo di impianto a parlare ai nostri microfoni è stato il presidente dell'associazione Andrea Torcoletti che si ha riferito queste cose sentiamo avete presentato il 7 di ottobre 70 pagine in provincia qual è quindi la situazione bene noi il 2 di gennaio avevamo presentato osservazioni affinché questo progetto venisse sottoposto a valutazione di impatto ambientale nonostante la proponente dichiarasse non necessario questo iter ci siamo riusciti e il 7 ottobre all'interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale abbiamo presentato ulteriori osservazioni e memorie circa 70 pagine di natura giuridica e tecnico ambientale chiedendo affinché l'ente procedente dichiari l'improcedibilità dell'istanza di Green Factory e chiedendo anche che non autorizzi questo tipo di progetto c'è un iter procedurale che prevedeva queste tempistiche e una volta presentate sul sito della provincia scattavano i giorni per poter presentare i 30 giorni per poter presentare osservazioni lo abbiamo fatto credendo in questo modo di poter tutelare con la nostra opposizione il nostro territorio il nostro ambiente la nostra salute cosa che non vediamo fatta da nessun altro l'amministrazione continua a tenere questa linea sotto traccia non dichiarando non uscendo con posizioni ufficiali oltre a chiedere l'improcedibilità nelle nostre osservazioni abbiamo evidenziato che esiste una via alternativa oltre a quella del progetto di digestione anaerobica certo è una via che non persegue come scopo ultimo quello di raggiungere e di accappararsi incentivi statali o facili utili è invece una via quella del compostaggio aerobico che permette un maggior rispetto del territorio maggior rispetto dell'ambiente emissioni sicuramente diverse da quanto non preveda invece questo tipo di progetto è per noi un giorno importante questo perché l'anno scorso veniva costituita l'associazione quindi è trascorso un anno un anno nel quale noi ci siamo adoperati per informare per rendere le persone consapevoli di ciò che stava avvenendo che comunque riguarda tutti noi riguarda il territorio riguarda l'ambiente riguarda anche la nostra salute abbiamo raccolto in questo periodo oltre 5.000 firme vorrei ricordare a tutti che questo procedimento prevede un utilizzo di 12 ettari di suolo attualmente agricolo prevede 105.000 tonnellate annume trasportate su gomma in questo territorio sulle nostre strade con chiare inevitabili emissioni clima alteranti oltre a quelle frutto come emissioni di tutto il trattamento della digestione anaerobica parliamo di tonnellate di emissioni in atmosfera quindi noi chiediamo come cittadini di essere rispettati e considerati e rispettati significa avere un ruolo avere un incontro un confronto con chi ci amministra noi continueremo comunque nella nostra azione e non abbiamo intenzione di arretrare di nemmeno un metro perché questi sono i nostri territori il nostro ambiente e ci sentiamo in diritto e in dovere di tutelarli sia per noi sia per le famiglie che ci vivono e anche per il futuro dei nostri figli e continuiamo a parlare di ambiente ma questa volta lo facciamo con una bella iniziativa perché a Bottega sulla strada provinciale dalle 1 ottobre è stato aperto al pubblico il giardino dei colori un'iniziativa ideata da due ragazzi giovanissimi che hanno deciso di coltivare più di 5.000 zucche di ogni colore e dimensione numerosi laboratori didattici in programma anche in attesa di Halloween ma per saperne di più ascoltiamo le loro parole qui siamo al giardino dei colori di Bottega di Vallefoglia e l'iniziativa è la Pumping Patch deriva dalle culture anglosassoni quindi inglesi e irlandesi dove tutti i bimbi sia più grandi che più piccini con le famiglie amici possono venire entrare nel nostro giardino e raccogliere la propria zucca e poi ci sono tantissime altre attività potranno intagliare la zucca ci sono palloncini zucchero filato trucca bimbi e eventi mostruosi vari da che cosa è nata l'idea? l'idea è nata mischiando la mia passione che è l'agricoltura e la natura che me l'ha insegnata mio nonno che faceva l'orto insieme a lui insieme alla passione della Gloria che è quella dei bambini infatti lei lavora anche in un'agenzia di animazione quindi abbiamo cercato di mischiare le due idee e ci è venuta fuori questa idea che secondo noi è molto carina e ci tengo a precisare che la missione della nostra azienda non è guadagnare tramite la vendita delle zucche ma è quella di cercare di instaurare di influenzare le nuove generazioni che sono i bambini che saranno il nostro futuro e cercarli di influenzare verso i temi sostenibili farli avvicinare di più alla natura e farli appassionare al territorio che è pieno di cose belle che andrebbero valorizzate molto possono partecipare sia grandi che piccini con bimbi con famiglia amichetti e ci troviamo sulle pagine facebook instagram e possono recarsi direttamente al nostro giardino qui a bottiga in che giorni? venerdì sabato e domenica apriamo dalle tre e mezza fino a che non fa buio quindi sette sette e mezza iniziative particolari invece per halloween? ok per halloween abbiamo tutto il campo tutto il giardino addobbato a tema halloween in più ogni domenica facciamo un evento mostruoso indicato per i più piccoli ma anche per i più grandi e ad esempio abbiamo la caccia al tesoro da brividi quindi con le comparse vere e poi facciamo il cinema all'aperto e la costruzione di macchinine e poi gli spettacoli dal vivo disputa fuoco giocoleria col fuoco e spettacoli di tessuti aerei tutto a tema halloween avete in mente altre idee dopo halloween? si dopo halloween abbiamo già in mente la raccolta dei tulipani che si svolgerà a inizio primavera marzo-aprile quindi si potrà venire qua si potrà raccogliere più di 50 ci si potrà raccogliere un tulipano fra più di 50.000 tulipani di ogni colore forma e dimensione varia e ci saranno varie attività presenti nel nostro giardino e chiudiamo come di consueto il nostro Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine aprendo la pagina sportiva iniziamo dalla Megabox Vallefoglia perché è stato un risultato sicuramente da prima pagina quello degli ultimi giorni visto che le ragazze di Mister Bonafede hanno ottenuto mercoledì sera la prima storica vittoria nelle massimo campionato di serie A1 la partita disputata in casa alle Palamondolce di Urbino è terminata con il punteggio di 3-1 dove le Tigri di Vallefoglia si sono imposte grandiosamente contro un ostico Chieri un'ottima risposta dunque alla sconfitta interna subita invece domenica scorsa contro Busto Arstizio che ha trionfato per 3-7-1 passiamo ora al calcio e lo facciamo con il campionato di eccellenza dove l'Atletico Gallo nonostante la doppietta di Moratori è stato fermato in casa per 2-2 dalla Biagio Nazaro nelle campionato di promozioni invece importante vittoria delle K-Sport Montecchio che nelle match domenicali contro Gabizia Gradara si è imposto per 1-0 nello stesso girone seconda sconfitta consecutiva per il Levalfoglia che sul campo dei Leilario Lorenzini è stato battuto per 1-0 in prima categoria invece pareggio interno per 0-0 tra Osteria Nuova e Real Metauro stessa sorte anche per l'Atletico Tavuglia che pareggiando 1-1 sulle campo delle Santa Veneranda rimane all'ultimo posto in classifica e con lo sport ci conclude questa nostra nuova edizione delle Vallefoglia di Pian del Bruscolo Magazine come sempre vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV vi rinnova l'appuntamento venerdì prossimo il 29 di ottobre e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti